Lei diceva che in questo governo il Ministero dell'Ambiente ha un peso diverso rispetto alla cenerentola che è stata per tantissimo tempo. In che senso esattamente? A livello pratico come mai e in che modo si esprime questa forza maggiore del Ministero dell'Ambiente all'interno di questo governo? Avete più soldi, vi danno più soldi, vi danno più potere, cosa le danno? Intanto le faccio un discorso, lei sa io appartengo alle istituzioni da sempre, al di là del ruolo politico che rivesto, che peraltro è un ruolo politico e non partitico, nel senso che comunque appartiene sempre alle istituzioni. Però rammentiamo che una parte della maggioranza, cioè il Movimento 5 Stelle, ha nella sua prima stella la tutela dell'ambiente. La Lega non è scevra da avere sensibilità ambientali nel momento in cui a entrambi puoi dimostrare, non sostenere, ma dimostrare che il paradigma economico, il sistema produttivo economico può cambiare senza rimetterci. Quindi sfido chiunque a dire, beh vabbè allora non ci credo. Cioè anche colui che magari non ci crede alla tutela verde, poi nel momento in cui sa che non ci rimette ma ci guadagna, quantomeno per pragmatismo, alla fine si dice ok, si va avanti. Non è questione di quanti soldi si hanno, è questione di come si spendono i soldi. Però come sono abituato a casa mia, nel mio piccolo, io prima spendo bene quello che ho e poi vedo se me ne serve dell'altro. Bene, io credo che in questa visione di economia diversa, di economia verde e di giusta transizione, incominciamo a spendere bene le risorse che abbiamo. Le faccio qualche esempio concreto. Vogliamo incominciare a ridurre i rifiuti alla fonte? Bene, in questa finanziaria ci sta il credito d'imposta a favore delle aziende che vendono leggero, cioè con meno imballaggio. Io favorisco l'azienda che vende con meno imballaggio, non sto sfavorendo con lei che vende con l'imballaggio che conosciamo. Però se io favorisco con lei che vende con meno imballaggio, probabilmente ci saranno molte aziende che venderanno leggero e ci saranno più consumatori che a un prezzo più basso compreranno il medesimo prodotto a un prezzo più leggero anche loro. Penso che sia spendere bene i denari, utilizzare i fondi del protocollo di Chioto, che già abbiamo come Paese Italia, per fare l'efficientamento energetico di cosa? Delle scuole, degli ospedali, degli edifici pubblici, la casa del cittadino. Bene, io in finanziaria ci metto questi denari che già avevamo, ma non erano per queste cose. Bene, facciamolo e aiutiamo coloro che delle strutture pubbliche hanno difficoltà a costruire la progettazione tecnica. Il Ministero dell'Ambiente con i suoi tecnici si mette a fianco, perché se non lo facciamo prima noi, come Plastic Free per esempio, e io l'ho resa il 4 ottobre Plastic Free a costo zero, al Ministero e al cittadino non è costato nulla, ha semplicemente switchato il Ministero. Se non lo facciamo prima noi come Stato, come pubblica amministrazione, ma come posso pretendere che lo faccia una famiglia?